Allora ditemi, vi state chiudendo come me da due giorni di fila a Metal Gear Solid 5 talmente tanto che vi siete dimenticati di dare da mangiare al cane decrepato? Bene, ma c'è ancora un problema, lo so. Non riuscite proprio a convincere i vostri amici che non sono fan della saga che questo è un capolavoro di gioco. Non vi preoccupate che ci sono qua io. Eccovi una lista da dare a questi amici per cui Metal Gear 5 è pura arte videoludica. Uno, fare sesso con le scatole. Due, la sabbia negli occhi. Tre, puoi farti una doccia in un bagno chimico. Quattro, che cazzo mi sta succedendo in faccia? Cinque, puoi decidere il tipo di mimetica se senza sciarpa, con la sciarpa o nudo. Perchè? Sei. Sette, incredibile varietà di ambientazioni. Deserto, 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 de- Otto, sono una scatola. Nove, se ti sei stufato di fare stealth puoi sempre raccogliere i fiori. Dieci, bird watching. Do-do-dove cazzo ho finito? I prossimi due sono per i fan del wrestling. Undici, attitude adjustment. Dodici, spear! E ti ringraziano pure dopo. Tredici, poter stare appesi per ore. Quattordici, puttana Eva ho sbagliato tasto. E dulcis in fundo, quindici. E se non siete riusciti a convincere i vostri amici con queste motivazioni... Cambiate amici.